Un conto è raccontare le aziende lucane, un altro è toccare con mano e vedere direttamente come un prodotto può diventare un'eccellenza. Il tutto si può realizzare solo grazie al valore che si attribuisce al lavoro e dalla consapevolezza che operare bene produce risultati di qualità. E' un po' questa la visione alla base del PMI Day, la giornata organizzata dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Basilicata, giunta alla sua tredicesima edizione, diventato un appuntamento fisso e che consente alle nuove generazioni di conoscere da vicino la realtà aziendale del territorio. Sono stati tre gli appuntamenti in Basilicata che si sono svolti in contemporanea a Potenza Matera e Melfi e che hanno coinvolto gli studenti del liceo artistico Walter Gropius di Potenza e degli istituti di istruzione superiore Pentasuglia di Matera e Gasperrini di Melfi, come ha spiegato il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco somma. Aprirsi del mondo produttivo di tre eccellenze lucane fortemente radicate in Basilicata, la CS Tendagi di Potenza, l'antezza tipografi di Matera e la Lear Corporation di Melfi, l'apertura agli studenti al mondo della scuola significa davvero un appello affinché la scuola possa conoscere come si fanno le cose belle e ben fatte in Italia. Un'occasione anche per gli imprenditori del territorio per mostrare ai ragazzi che la Basilicata offre anche molte opportunità. Io mi sono sempre considerato un fortunato perché ho fatto del mio sogno il mio lavoro e quindi auguro a questi ragazzi che un giorno possano anche loro fare il lavoro che amano di più. I ragazzi oggi fortunatamente per loro hanno potuto vedere una delle più innovative macchine da stampa che è praticamente in produzione da poco tempo in Germania e la prima è arrivata qui a Matera. Ma cosa ancora più importante hanno potuto vedere il meccanismo di associazione di un'app che è un'app che abbiamo realizzato noi che va a raccontare quindi a creare una relazione tra il supporto analogico che è il prodotto stampato e il video che l'azienda di turno può collegare all'immagine.